allora noi ci stiamo avviando nei negozi per comprare che cazzo dobbiamo comprare un po di dignità a parte quella a lui si deve comprare tipo dei kit per portarsi le cose all'ospedale perché domani viene operato perché finalmente era il listo d'attesa come sono io il listo d'attesa per farmi sgonfiare quelli di sotto che sono belli pieni e che sono belli gonfi e niente adesso andiamo a comprare qualcosa speriamo che non costano troppo queste merda di cose è questo il nostro outfit ma che brutto ma manco caterina casella si vestiva in questo modo che cazzo è caterina casella comunque io posso dire che amo epi casa è uno dei miei negozi preferiti ecco qua va ma che meraviglia già mi sento bene con queste don delle viste allora adesso stiamo cercando di un kit da viaggio tipo quelle cose piccole formato piccolo lo so di solito prendo le cose grandi ma adesso ma questi sono enormi che cosa te ne devi fare di due litri di cose che non ti lavi mai comunque da notare la meraviglia di queste spazzole guarda che bello questo è nuovo borotacco 4 no è brutto 4 ore 29 non mi piace non ci siamo più tra un po' qui qualcuno deve andare in qualche rotonda per andare a comprare un odorante no no che è strano che riesco a passare davanti alle specchie senza che si rompano madonna va comunque guarda questa è tutta la spesa che abbiamo fatto ti faccio vedere alla cassa che c'è da svenire ti faccio vedere non ci buoni tanto da casa towardi sono Grazie.